Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi vediamo insieme il primo dei sei sonetti che fanno parte di una tenzone, una gara poetica tra Dante Alighieri, il sommo poeta, e Forese Donati. In totale sono sei sonetti, tre scritti da Dante, poi altrettanti di risposta da parte invece di Forese Donati ed è interessante perché la tenzone è una vera e propria gara poetica, un esercizio di stile, un gioco letterario. I sonetti sono scritti più o meno tra il 1293 e il 96, utilizzano un linguaggio scurrile, spesso anche salace, si inviano dei veri e propri improperi, dei vituperi, quindi delle pesanti ingiuri e delle offese, ma è tutto un gioco, un puro esercizio letterario, un divertimento. E perché lanciarsi degli insulti? Beh, soprattutto anche per riservarsi quell'angolo letterario, quell'angolo di evasione, di fuga dalla realtà, una realtà, non dimentichiamolo mai, che è molto pesante, opprimente, molto pressante, sia per la presenza della Chiesa ma soprattutto anche per le regole sociali dell'epoca. Quindi diventa davvero un momento in cui il poeta è libero di poter evadere, di poter scherzare e di ribaltare quelle regole che sono davvero asfissianti e che lo chiudono in una prigione e che quindi lo soffocano. Quindi davvero diventa per loro un momento di condivisione, di gioco, di evasione. Infatti anche il verbo stesso scherzare è legato a un verbo longobardo, quindi di origine germanica, e significa stare allegri, saltellare, quindi essere lieti. Quindi scherzare significa davvero avere quel momento di gioco, di scherzo, di risata, quindi suscitare il riso, chiaramente si può fare soprattutto attraverso l'utilizzo di un linguaggio particolarmente salace, scurrile, spesso irriverente, ma è tutto un gioco, non c'è un'offesa reale. Però le allusioni sessuali, le frecciatine che si mandano per colpirsi sia sull'aspetto fisico ma soprattutto sul comportamento e sul carattere, non mancano di certo, ma non vanno intese in senso stretto, è sempre un gioco. Anzi Dante sembra quasi fare le prove, cioè utilizzerà poi questo linguaggio e sarà per lui fonte di ispirazione quando poi dovrà scrivere i canti dell'inferno della divina commedia, soprattutto da Malebranche in poi. Vedremo molti lemmi particolarmente scurrili quando ci sarà il capo dei Malebranche, il quale per dare il segnale di partenza alla brigata Dante dirà ed egli avea del cul fatto trombetta, quindi non si va molto per il sottile. In questo caso invece vedremo che cosa Dante insinui riguardo a Forese Donati e lo accuserà di essere un ghiottone, quindi ingordo dal punto di vista alimentare, non è un caso che poi lo ritroveremo nel ventitresimo canto del Purgatorio. Lui sarà punito proprio per il peccato di Gola, starà scontando la sua pena e in quel momento rievocheranno proprio la moglie, perché qui si parla della moglie Nella, quindi sarà un momento anche per ricordarlo e da parte di Dante ci sarà anche una sorta di pentimento, quindi chiederà anche perdono, si pentirà in un certo senso di aver usato un tono così scurrile, così volgare, basso, umile, nonostante la selezione lessicale che adesso vedremo, perché è pieno anche di provenzalismi e soprattutto di latinismi, in realtà qui siamo in un linguaggio molto vicino anche alla poesia comico-parodica o comico-realistica, perché siamo appunto in questa tenzone, in questa gara poetica. Se da un lato Dante, quindi accusa Forese Donati, insinua di essere un ghiottone, ingordo, ma soprattutto anche figlio illegittimo, perché c'erano dei dubbi sulla sua origine, quindi sulla sua nascita, perennemente indebitato, dall'altro lato invece vedremo poi la risposta in un'altra lezione da parte di Forese Donati, in cui invece l'amico accuserà Dante di essere figlio di un usuraio, quindi di un padre che presta denaro a usura, un accattone, quindi continuamente e costantemente alla ricerca di denaro e di essere anche un vigliacco, quindi di tirarsi indietro. Sappiamo anche che nella famosa battaglia di Campaldino, lo racconta anche il professor Barbero nel suo libro Dante, il poeta ebbe molta paura, fu scelto tra i famosi 150 feditori a cavallo e quindi lì ammette di aver avuto anche paura, insomma c'è davvero di tutto qui dentro, possiamo conoscere e scoprire tantissimi lati di questi poeti, anche del sommo poeta. Qui si parla di Nella, la moglie di Forese Donati, tra l'altro Forese Donati era un grandissimo amico di Dante, per capire chi sia questo personaggio basti dire che ebbe come fratelli Corso Donati, cioè il capo della fazione dei Guelfi Neri e Piccarda Donati, colei che poi ritroveremo invece nel paradiso, nel cielo della luna, e fu addirittura cugino di terzo grado della moglie di Dante Alighieri, quindi in realtà era anche imparentato naturalmente alla lontana con il sommo poeta, perché era cugino di terzo grado di Gemma Donati, la moglie appunto di Dante. Chiudisse Tossirla Malfatata, moglie di Bicci, Vocato Forese, potrebbe dire che la forse vernata, ove si fa il cristallo in quel paese. E qui subito Dante va giù pesante, insomma carica subito il linguaggio. Chiudisse Tossirla Malfatata, il sonetto si apre con il periodo ipotetico, cioè se qualcuno avesse mai sentito Tossirla Malfatata, cioè la moglie di Forese Donati, appunto moglie di Forese Vocato Bicci, chiamato Biccinovello, questo soprannome dato non a caso perché Forese Donati si chiamava come suo nonno e quindi per distinguerlo dal nonno paterno fu soprannominato Biccinovello. Non è messo lì a caso, notate subito però al primo verso quel Malfatata, un provenzalismo, quindi vedremo da un lato il linguaggio scurrile, salace, legato alla poesia comico-parodica e dall'altro lato invece l'uso comunque importante di latinismi e di provenzalismi, quindi questa selezione lessicale molto raffinata non viene mai meno, quindi è sempre un gioco letterario ma comunque compiuto da poeti di grande spessore. Malfatata, cioè la sventurata, la sciagurata, Malfatata, colei che ha un cattivo destino, perché è finita moglie di Biccinovello, quindi che è molto povero, povero e continuamente indebitato, un ghiottone, quindi davvero una persona di poco conto, che non vale molto in sostanza, vocato, quel vocare, voco vocare viene dal latino, quindi un latinismo, potrebbe dire, quindi chi l'avesse sentita tossire, potrebbe dire che la forse vernata dove si fa il cristallo in quel paese, è andata a svernare nel paese dove si fa il cristallo. Qui Dante riprende una teoria di Aristotele, il grande filosofo, secondo la quale il ghiaccio nasceva soltanto nei luoghi nordici. Notiamo che anche vernata è un altro latinismo e subito parlando della moglie ci dice che lei passa continuamente le sue giornate al freddo, soffre così tanto da tossire continuamente. È chiaro, lei vive in un luogo freddo perché il marito naturalmente è povero, quindi non bada molto al riscaldamento e di conseguenza lei inizia a tossire. Tutto ciò che lui dirà riguardo il freddo è una palese allusione sessuale, perché qui sta dicendo che il marito non è soltanto avaro e povero in canna, ma insinua anche che Forese Donati non sia sessualmente prestante, non solo che trascuri la moglie, ma che non sia anche in grado di soddisfarla dal punto di vista sessuale e qui quindi c'è tutto il gioco, il doppio senso che poi suscita il riso. Al verso 5 invece arriva la dinaton, cioè quella cosa impossibile, di mezzo agosto la trovi infreddata, alla metà di agosto la trovi infreddolita, quindi ha freddo persino d'estate quando fa molto caldo, or sappi che deve fare da ogni altro mese, or sappi e quindi immagina che cosa lei debba fare negli altri mesi, cioè figurarsi sia freddo d'estate, figurarsi d'inverno, quindi qui rincara la dose. Interessante quella dinaton perché funziona come l'iperbole, l'iperbole è un'esagerazione e qui invece Dante usa la dinaton e non le vale perché dorma calzata, merced del copertoio cac cortonese e non le vale a nulla, quindi non le giova, non le è utile dormire calzata, cioè dormire con una coperta rimboccata e anche vestirsi per andare a letto, grazie al copertoio, quindi a causa del copertoio, cioè di quella coperta cac cortonese, a causa della coperta di cortona. Attraverso qui un gioco di parole Dante che cosa sta dicendo? Che la coperta che lei utilizza è troppo corta, quindi per quanto lei possa cercare di coprirsi avrà sempre freddo o perché rimangono i piedi fuori dalla coperta oppure se la tira giù e rimane scoperta la parte superiore del corpo. A che cosa allude quella coperta? Allude alle prestazioni sessuali del marito, cioè ci sta dicendo che Forese Donati non è in grado di soddisfarla. Evidentemente quella coperta corta allude alla durata della sua prestazione sessuale oppure alle misure del membro virile. Qui lo sta proprio prendendo in giro e ci va giù pesante, però sentite non lo dice in maniera diretta, rosa e volgare, ma lo fa intendere, non lo dice apertamente, è sempre in maniera velata. La tosse, il freddo e l'altra malavoglia non la dovien per omor cabbia vecchi, ma per difetto che la sente al nido. La tosse, il freddo e tutti quegli altri malesseri, quindi tutti gli altri dolori, tutte le altre sofferenze, gli acciacchi, tutto ciò che lei prova, notate il tricolon, quindi l'accumulo di questi tre elementi, non le vengono per omor cabbia vecchi, non le vengono per i suoi vecchi umori, cioè secondo la medicina medievale, chi ha gli umori che invecchiano, quindi quando una persona invecchia, soffre. In realtà qui che cosa sta dicendo? Che tutto quello che lei prova, le sue sofferenze, non sono causate dalla vecchiaia, ma, e qui al verso 11 subentra l'avversativa, ma per difetto che la sente al nido, per il difetto, cioè per una mancanza, che lei prova nel suo nido. Notiamo la parola nido, qui subito ci viene alla mente Giovanni Pascoli, la casa, cioè il nido, quel luogo sicuro dove si dovrebbe sentire protetta, ben riparata, quindi al caldo e soprattutto ben soddisfatta, in pace con se stessa, il luogo dove possiamo soddisfare tutti i nostri piaceri corporali. In realtà c'è una mancanza, un difetto, una privazione, non è soddisfatta dal punto di vista sessuale, non viene mai accontentata e spesso quindi viene anche lasciata sola, viene trascurata e non riceve le adeguate cure e attenzioni da parte del marito. Piange la madre, la madre di Nella piange, che ha più di una doglia, poiché ha più di una doglia, più di un dolore, cioè ha tanti motivi per lagnarsi e per dolersi. Doglia, altro latinismo dicendo, lascia, oh povera me, che per fichi secchi messa l'avrei in casa del conte Guido. Oh dice, povera me, che per fichi secchi, cioè che per pochi soldi, l'avrei messa in casa del conte Guido, l'avrei accasata, l'avrei fatta sposare col conte Guido. Questo Guido Novello di cui si parla è identificato con Guido Novello, un nobile del Casentino, cioè una zona della Toscana tra Firenze ed Arezzo. Qui interviene la madre, quindi notiamo l'uso del discorso diretto all'interno di un sonetto, quindi anche questo abbassa notevolmente il tono lirico, quindi è un sonetto sì, però viene deliricizzato a causa del discorso diretto, o anche a causa di questa espressione dialettale, gergale, molto terra terra, umile, bassa, per fichi secchi, cioè per pochi spiccioli per quattro soldi, l'avrei accasata con il conte Guido. Sarebbe stata molto meglio con un altro uomo, non avrei mai pensato che Forese Donati l'avrebbe poi invece trascurata in questo modo. Nel sonetto successivo invece vedremo la risposta di Forese Donati, il quale ribatterà a sua volta accusando Dante di essere figlio di un usuraio, un accattone e anche un vigliacco. Arrivederci, alla prossima.